Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. E' proprio prendendo spunto dalla frase di Sant'Agostino che l'arma dei carabinieri ha voluto lasciare vivo il ricordo di Raffaele Palestra, il luogotenente di Cava dei Tirreni, 52enne effettivo al nucleo investigativo di Salerno, scomparso il 3 aprile del 2020 a causa del Covid. La sala riunioni del comando provinciale di Via Mauri a Salerno da sabato reca il nome in memoria del luogotenente carica speciale dei carabinieri Raffaele Palestra. Nel corso di una cerimonia alla presenza dei familiari, della moglie e dei figli, lo scoprimento della targa benedetta dal parroco della chiesa di Passiano di Cava dei Tirreni, Don Vincenzo Di Marino, alla presenza del comandante della legione carabinieri Campania, il generale di divisione Maurizio Stefanizzi, del comandante provinciale di Salerno, il colonnello Gianluca Trombetti. Una cerimonia ricca di emozioni accompagnata dal taglio del nastro della rinnovata sala riunioni, accompagnata dalla bellezza e dalla profondità delle parole della figlia Ada. Sì, vedere quel nome inciso sulla targa cambia completamente quello che è l'identità di una semplice stanza, una stanza che da oggi appunto sia per noi familiari, che comunque abbiamo conosciuto lui come persona, sia per i suoi colleghi che l'hanno conosciuto in altri vesti, ha assunto un valore per tutti molto più significativo rispetto a quello che era il valore di una semplice sala riunioni. L'arma non può dimenticare i suoi figli, ha dichiarato il generale di divisione Maurizio Stefanizzi, che nelle sue parole non ha mancato di ricordare il significato di essere carabinieri, rivolgendo un pensiero ai militari che hanno pagato con la vita. Noi siamo dappertutto in Italia, nei piccoli centri, essere vicino alla popolazione è un privilegio e dall'altro lato ci dà ovviamente maggiori responsabilità, quindi quando ci sono queste situazioni, essere dalla parte dei giusti, dalla parte di chi ha bisogno è connaturato, di essere carabinieri, quindi poi può comportare né pagare un prezzo, però insomma è la nostra vita, i nostri ragazzi come palestri, pittori che abbiamo ricordato il 6 giugno, pagani come della Ratta, come mamme le reali, erano tutti ragazzi urmani, persone per bene, ragazzi politici che avevano scelto di servire la patria e il centro delle proprie comunità. Un gesto sentito sin da subito, un carabiniere sempre presente, l'intitolazione della sala riunioni alla sua memoria è un riconoscimento per ricordare chi è stato Raffaele Palestra, così il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti, ricordando la sera del 3 aprile del 2020, quando dinanzi all'ingresso della caserma, alla notizia della sua morte, giunsero anche le auto della polizia che accesero i lampeggianti per rendergli omaggio. Lo ricorderemo anche negli anni a seguire, spero che questo gesto serva anche a ricordare a tutti i carabinieri e anche agli altri che accedono in caserma chi fosse Raffaele Palestra, alle cui spalle devo dire che c'è una famiglia molto solida, una bellissima famiglia che ha avuto la possibilità di conoscere in questi mesi e che questa solidità deve anche assolutamente a lui. Ricordo benissimo purtroppo la sera in cui è venuto il fatto, ringrazio ancora le altre forze di polizia che sono venute in maniera assolutamente spontanea qui a dimostrare la loro vicinanza per un fatto così grave che ci ha colpito e ci tengo anche ad aggiungere una cosa che nonostante siamo stati feriti dall'interno dal virus che ha colpito uno dei nostri uomini non ci siamo mai fermati. Forse il suo esempio ci ha anche aiutato a comprendere quanto fosse importante la nostra attività per la comunità e devo dire che nonostante gli sforzi straordinari che ci sono stati richiesti siamo riusciti a fare un buon lavoro per la comunità e oggi speriamo di raccoglierne i frutti di tutti quanti.